Allora, l'incontro con i giurati è stato pazzesco, ho ricevuto delle domande super stimolanti, nonostante avessero più o meno di media tutti i dieci anni, ma facevano delle domande da persone adulte. Credo sia questa la cosa che è cambiata maggiormente in giffoni, non tanto in giffoni, ma comunque dopo i due anni di pandemia e tutti i cambi che ci sono stati, già di per sé il cambio generazionale ho trovato delle persone, dei bambini, che sembravano degli adulti, ma è stato super stimolante. Io trovo che l'invisibilità abbia un'accezione positiva invece, perché quando gli altri ti fanno sentire invisibile potrebbe allora fare del male, ma questo potere non va dato agli altri. Ha un'accezione positiva perché io da sola delle volte scelgo di essere invisibile, scelgo di mettermi nell'angolino, di osservare, di carpire, per decidere poi cosa voglio emulare e quale versione migliore di me stessa voglio diventare. Quindi non è una cosa sempre negativa. Allora, ci sono state tante attrici che mi hanno ispirato. Ad esempio mi viene in mente Angelina Jolie, che è una donna molto fine, molto composta, ma ha sempre interpretato, o la maggior parte delle volte ha interpretato, dei ruoli molto dinamici, di donne molto forti, film d'azione. Quindi mi piace tantissimo questa dicotomia, questo poter diventare altro. Il consiglio che do a chi vuole intraprendere questo lavoro è di studiare tanto, di crederci sempre e non smettere mai, perché se ce l'ho fatta io, Giffoni ogni volta mi lascia un calore strepitoso. Per me Giffoni è magia. Per me che venivo a Giffoni in qualità di fan, ritrovarmi dall'altra parte è qualcosa di pazzesco. Giffoni è magia per me, è poter credere in tutto e diventare tutto. A tutti i Giffoners, io dico solamente di continuare a credere nei propri sogni. Giffoni ci dà questa grandissima opportunità di realizzare dei sogni, di incontrare delle persone che ci ispirano e di non dimenticarsi mai di questa cosa, quindi di non mollare mai, di credere sempre nei propri sogni, che si può essere chiunque si vuole. Grazie. Grazie.